Io questa sera sono con Claudio Diana, nuovo co-main sponsor della Carri Coppa Pallavolo Motto che ha appena vinto 3-2 contro Cantù, intanto vi ha detto che è stata la sua primissima partita di pallavolo. Assolutamente, è stata una bellissima esperienza, ho visto un sacco di agonismo e complimenti a tutti veramente. Pensavo che sui 2-7-0 il gioco fosse fatto, invece mi sono ricreduto e ho sofferto fino all'ultimo, come voi tutti penso. Ecco, cosa ha spinto Diana Gruppa a sostenere il progetto Pallavolo Motto? Diciamo che noi lavoriamo con il sociale, siamo di Motto, abbiamo un'azienda Motto e quindi è evidente che una società importante come questa che si muove in ambito nazionale ci aiuta sicuramente anche a distribuire il nostro marchio. Gli ultimi risultati, quindi un avvio di campionato molto positivo, hanno inciso sulla sua scelta? No, assolutamente, proprio zero, nel senso che questo sport non lo conoscevo per niente, non l'ho mai seguito, per me è stata una sorpresa quando mi hanno detto che il Motto era in serie A, 2, non lo sapevo per niente, quindi assolutamente non era questo il discorso. Il fatto che sia di Motto invece è importante, avendo l'azienda Motto, vivendo a Motto, mi sento mottense, quindi è giusto aiutare in iniziative come questa a un certo livello. Cosa direbbe invece alle altre aziende per spronarle a seguire il suo esempio? Che direi? Venite che vi accogliamo a braccia aperte. Parla già al plurale, quindi è un bene. Grazie mille, l'aspettiamo in casa il 5 dicembre per la prossima. Benissimo, non mancherò. Grazie ancora.